Buongiorno Buon martedì 19 di dicembre Bentrovati a mattino 6 L'appuntamento con la quotidiana Rassegna Stampa Iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi Partiamo dal centro Questa è l'apertura dell'edizione di Pescara Tassa sui rifiuti, conteggi da rifare Il comune sbaglia i calcoli a Pescara Meno care le tariffe per il 2018 Andiamo a centro pagina Il titolo della fotonotizia ubriaco Su un SUV devasta 4 auto e ferisce un ragazzo Giornalista russo semina il panico In Viale Regina Elena Andiamo nelle cronache adesso E troviamo in primo piano il Pescara Zeman resta ma è solo tregua con il presidente Sebastiani E poi a Francavilla Banda del Buco Tenta un colpo all'ufficio postale A Montesilvano, case Vistamare Al Curvone, bufera in giunta Sotto la fotografia Le polemiche sul rientro di Vittorio Emanuele III in Italia La Salma è tornata nel nostro paese Aldo testimone della fuga del Re E Troilo che ora critica il rientro Ortona e la Brigata Maiella Aldo Recchini aveva 16 anni Quando nel 43 la famiglia reale fuggì Imbarcandosi ad Ortona Aldo il pescatore racconta quella notte Mentre Carlo Troilo, figlio del comandante Della Brigata Maiella E critica sul rientro della Salma del Re Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo Firmato da Giuliano Di Tanna Violenze sugli Ultras e Spirito del Natale Una storia particolare Quella di un tifoso della San Benedettese Che durante una partita di Serie C contro il Vicenza In un tafferuglio è finito in coma Appunto per le conseguenze di questi scontri La sua famiglia ha trovato ospitalità Proprio da alcuni tifosi del Vicenza Che si sono occupati di tutte le spese Per la famiglia che ha dovuto Che alloggia nella città Per assistere il proprio congiunto malato Andiamo a vedere adesso la lettera Del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso Scuole sicure con 49 milioni da investire Questa è la lettera di D'Alfonso Nel taglio alto invece abbiamo i richiami Dalle cronache nazionali e internazionali L'ex ministro aveva 77 anni Schianto frontale Muore altero Matteoli E poi treno deraglia sull'autostrada Sei vittime negli Stati Uniti Adesso passiamo all'edizione di Chieti Lanciano Vasto Il titolo di apertura Protesta in piazza contro di primi Opposizione in corteo sabato E il sindaco in cassa 11 milioni per i lavori Nelle cronache a Lanciano Condannati per i furti ai distributori Ancora nelle cronache a Chieti Ateneocus scontro su debiti da 15 milioni E a Vasto i proprietari Tornino agricoli I nostri terreni A centropagina nella fotonotizia Caccia al selfie con il ballerino scrittore di Amici Festa al trato Marucino E di Chieti con Andreas Müller Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro Adesso andiamo a vedere l'edizione di Teramo Il titolo di apertura bruciati alle slot 1000 euro a testa Contagiati dal gioco d'azzardo Nel Teramano la media più alta d'Abruzzo Per la ludopatia che è un fenomeno sempre più preoccupante A centropagina nella fotonotizia Autobus finisce fuoristrada a causa del ghiaccio Civitella doveva caricare gli studenti Vedete la fotografia del bus della tua finito fuoristrada Nelle cronache la ricostruzione ferma Natale Amaro Per oltre 4000 sfollati Nella foto una delle case Ater del quartiere Colle Atterrato di Teramo Giallo a Roseto va in fiamme l'auto di un imprenditore E ancora per quanto riguarda invece lo sport e il Teramo Campitelli prova a rilevare lo stadio Bonolis Con un'offerta al proprietario dello stadio di Teramo Andiamo a vedere insieme adesso la prima pagina dell'Aquila Avezzano sul Mona Il titolo di apertura furbetto del fisco Sigilli alla Villa Avezzano La finanza accusa l'imprenditore per 200 mila euro evasi Continuiamo con la fotonotizia a centro pagina Mamma Giovanna la casa è vuota senza Fabrizia Cerimonia sul Mona Un anno dopo l'attentato in Germania Il ministro Pinotti ieri a Sul Mona ha incontrato i genitori di Fabrizia di Lorenzo Nelle cronache sempre dall'Aquila Cotugno pronti 12 milioni per la nuova sede Ancora Banca Italia vende tre palazzine per un milione di euro Ancora l'Aquila Celestino Quinto domani torna a Collemaggio Questo per quanto riguarda la lettura del quotidiano Il Centro Adesso invece ci spostiamo sul messaggero Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo Il titolo di apertura Scontro sui debiti della sanità Febo di Forza Italia accusa Asl in perdita per 100 milioni Il settore è vicino al default Paolucci e D'Alessandro rispondono Tutto il nostro operato è stato approvato dal Ministero Andiamo a vedere un estratto dell'articolo di Saverio Chiuto A pagina 36 Asl in rosso E questo era già noto La novità segnalata dal Presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Mauro Febo è che il passivo è ben più pesante di quanto dichiarato dall'Aggiunta d'Alfonso La perdita complessiva ammonterebbe infatti a 52 milioni 691 mila euro E non ai 23 milioni 665 mila programmati per il periodo che va dal 30 settembre scorso al 31 dicembre Una perdita stimata che arriva a superare i 100 milioni Se hai reso conti delle quattro Asl abruzzesi si aggiunge il passivo della spesa farmaceutica La farmaceutica pari a 38,3 milioni di euro E i circa 8 milioni di euro per l'affidamento alla KPMG e associati del servizio di supporto professionale E le Asl per la redazione dei rispettivi bilanci Continuiamo con il tema della sanità L'Aquila arrivano le ambulanze sempre sterili Un sistema che neutralizza eventuali batteri, funghi e virus all'interno dell'abitacolo Grazie a una molecola inserita nei rivestimenti interni dell'ambulanza Che si attiva con luce e aria E il dispositivo di sanificazione di cui sono dotate le 7 nuove ambulanze del 118 Assegnate alla Asl con il finanziamento della Regione Che già nei prossimi giorni saranno operative per interventi di soccorso All'interno dei nuovi mezzi in virtù di una speciale molecola si attiva il processo di sterilizzazione Continuiamo adesso a centro pagina La cronaca auto nel fossato E' stata la paura a farmi scappare Il giovane ha sfondato il finestrino a calci Mentre l'amico è annegato nell'abitacolo Questa è la notizia che arriva dalla Marsica Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo a pagina 43 E possiamo leggerlo insieme Sul corpo dell'uomo finito nel canale del Fucino Hicam Chabbi, 38 anni Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia Per stabilire se la sua morte è avvenuta per annegamento Così come gli inquirenti sospettano Intanto questa mattina dovrebbe avvenire il riconoscimento della salma Che si trova nell'obitorio dell'ospedale Il consolato sta ricercando la famiglia per comunicare la tragica notizia Sempre agli arresti domiciliari per omicidio stradale Imad Larac, 27 anni magrebbino Residente a San Benedetto dei Marsi Che entro domani sarà sottoposto alla convalida dell'arresto E accusato di aver abbandonato l'amico nelle acque gelide del canale Ancora la cronaca La droga di Natale sepolta in un campo Vedete la fotografia del gruppo di poliziotti Che ha effettuato questo blitz Scoperta da un cane poliziotto durante il training Che cosa? Oltre due chili e mezzo di droga Destinati a rifornire il mercato della costa In vista delle festività natalizie Questo è il sequestro da parte della polizia Durante il fine settimana appena trascorso E poi le scuole innovative aperte alla città Si parla di istruzione Saranno Cepagatti e Pescina Gli istituti selezionati dal MIUR Tra le 50 scuole innovative d'Italia Ieri c'è stata la presentazione in regione di questi progetti Nel taglio basso si parla ancora di scuole L'Aquila sicurezza vertice al liceo classico Tra i tanti paradossi di una ricostruzione complessa e difficoltosa Quello del liceo classico cittadino è uno dei più clamorosi L'istituto, uno dei primi dieci in Italia per qualità È ancora senza una sede Costretto a uno spacchettamento degli studenti in più plessi È ancora privo di certezze per il futuro Ora andiamo invece nel taglio alto Per vedere gli altri richiami dalle pagine interne Il basket di A2, Carlino, il matto che entusiasma gli Sharks E poi la Serie D Il Francavilla chiede il successo a Tavolino Per la gara rinviata a Castel di Lama E poi Serie B, Pescara, fiducia a Zeman Fino al match di Ascoli La società ha mandato Leone e Pavone incontrare l'allenatore Che ha diretto ieri regolarmente l'allenamento al poggio degli olivi Resta il gelo con il presidente Sebastiani E poi nella seconda parte della rassegna Vedremo anche il servizio su questa notizia Scusate Andiamo a vedere adesso la prima pagina della città Il quotidiano della provincia di Teramo Il titolo di apertura Rivoluzione tra i dirigenti comunali Tra chi lascia e chi arriva Gli interim e i contratti scaduti senza mai iniziare Ecco cosa cambierà a Teramo A centro pagina invece A Torino l'avvocato della Juve dona 100 capolavori castellani Franzo Grande Stevens l'estimatore E poi di spalla Atri al voto Ferretti parla già da candidato sindaco del Dopo Astolfi La ricostruzione a Torricella è il più grande villaggio SAE Civitella del Tronto Bus scivola sul ghiaccio L'autista esce il leso Andiamo nel taglio alto Giulianova il cartellone natalizio cade a pezze E poi notaresco di Buonaventura si candida al secondo mandato Nel taglio basso la novità Welfare studentesco patto d'acciaio tra Università di Teramo e Teramo Basket Lasciamo le prime pagine regionali Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale E partiamo dal Corriere della Sera Il titolo di apertura è sulla vicenda Banche Etruria L'affondo di Padoan Il caso La risposta sui colloqui di Boschi e del Rio Oggi l'audizione del governatore Visco Non autorizzai altri ministri a parlarne Così Padoan davanti alla commissione d'inchiesta Renzi Abbiamo già chiarito tutto E poi troviamo anche il commento di Massimo Gaggi Un'editoriale I pentiti dell'utopia digitale Continuiamo con la notizia a centropagina Che riguarda anche l'Abruzzo La classifica di Nature Lavora nei laboratori del Gran Sasso Le onde di Marica Scienziata dell'anno L'astrofisica Marica Branchesi È stata infatti inserita dalla rivista Nature Nella top 10 dei personaggi scientifici del 2017 L'italiana a 40 anni Lavora ai laboratori del Gran Sasso Ed ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta Legata alle onde gravitazionali Vi dico come le spio nell'intervista E poi troviamo anche il lutto nel mondo della politica Mori in un incidente stradale Matteoli e la maledizione dell'Aurelia Matteoli aveva 77 anni Ed è morto appunto in un frontale Sulla Aurelia Strada che quando era ministro delle infrastrutture Aveva spinto affinché diventasse Una autostrada Adesso la Repubblica Andiamo a vedere il titolo di apertura La prima Web Tax Banche Padoan Gela Boschi Arriva la tassa da 190 milioni Sui ricavi digitali Il ministro del Tesoro Ascoltato sul caso Etruria Dice Mai autorizzato Altri colleghi Ad occuparsene E poi anche qui a centropagina Troviamo questa bella fotografia Io mamma precaria Tra i magnifici dieci Della scienza Naturalmente si tratta di Marika Branchesi Abbiamo già letto in precedenza Invece sulle dichiarazioni di Di Maio Candidato premier per il Movimento 5 Stelle Che ha detto In caso estrema razio di un referendum sull'euro Voterei per l'uscita C'è il commento di Massimo Giannini Di Maio e le pirouette sull'euro Andiamo sulla stampa ora Il titolo di apertura alla politica Il Movimento 5 Stelle Apera il PD Ma senza Renzi Il Movimento pronto a discutere Un'alleanza per un governo a guida di Maio Allargato Anche al partito di Grasso Banche Padoan Scarica la Boschi Mai autorizzato i ministri A occuparsi di Etruria E poi c'è il commento di Marcello Sorgi I grillini E l'arte del possibile A centro pagina Altra notizia Altra curiosità Purtroppo Notizia di un'ennesima crisi aziendale Ma questo è il paradosso Che racconta Il paradosso Borsalino Fa affari Ma fallisce Il tribunale di Alessandria Nega il concordato All'azienda di Cappelli La proprietà dice Faremo ricorso Borsalino è stata una delle aziende più famose al mondo Per i suoi cappelli Indossati da tantissime celebrità E protagonisti anche di molti film Come ad esempio La vita è bella Di Benigni Andiamo sul fatto quotidiano Il titolo di apertura Una scoperta al giorno Pure Paduan In Guaia Laboschi Ministero sul ricatto A Unicredit L'ex ministra Incontrò anche il numero 3 Di Banca Italia E poi Nel taglio alto Il professore Copione Vigilerà sull'università Anvur Nuovo presidente dell'agenzia Con tema irregolare Poi Sexy corsi Minacce Lesioni e distorsione Bellomo indagato Intanto altre ragazze Denunciano per la vicenda Appunto del consigliere di Stato Sotto inchiesta a Piacenza E Bari Proseguiamo Sul sole 24 ore Il titolo di apertura Il Monte dei Paschi Torna Banca di Stato Stefania Bariatti Nominata alla presidenza La prima assemblea Con il tesoro azionista Di maggioranza Vara Il CDA Ha 14 Membri E poi La web tax Diventa Più leggera E-commerce Escluso L'aliquota Ridotta Dal 6 Al 3% Ampliato L'iperammortamento Arriva Imposta Sul fintech Lavoro Scontro Sui contratti A tempo Andiamo a vedere Questa fotonotizia Fisco Ikea Sotto esame A Bruxelles Per aiuti Di Stato Proseguiamo Sul manifesto Il titolo Come sempre Sulla fotografia Conti aperti E la Boschi Ha fatto tutto La sola Mai autorizzato Ministra Ad occuparsi di banche Paduan Rivendica a sé E a Renzi La gestione Della crisi Del credito E dribbla Sul caso Etruria Settimana Santa Della Commissione Oggi Alla sbarra Il governatore Di Banca Italia Nel taglio alto Troviamo invece L'Austria L'ultradestra Di Kurs Giura Tra i fischi Dunque Si è insediato Il nuovo governo Di conservatori Ultradestra In Austria Tra l'altro C'è la polemica Sull'offerta All'Alto Adige Ai cittadini Dall'Alto Adige Eventualmente Di avere Il doppio passaporto Quello Anche quello Austriaco In caso Si dichiarassero Tedeschi Andiamo sul Messaggero Il titolo Di apertura Nomine Prove di larga intese Il governo Avvia il titolo Per la successione Il tavolo Per la successione A Vegas In Consob Consultazioni Con Forza Italia Manovra Dal 2019 Web Tax Al 3% Ma non sarà applicata L'e-commerce Più sgravi Sui Bebè Intanto Per le banche Visco Nessuna pressione Dalla sottosegretaria L'affondo di Paduan Sul caso Boschi Mai autorizzati Incontri Su Etruria Andiamo a centropagina Nella fotografia Vedete il presidente Trump Trump alza la voce Cina e Russia I nemici Via il tetto Agli armamenti Voluti da Obama Stiamo tornando Forti Troviamo anche Una notizia Sulla Brexit Barnier Londra Deve accettare Le condizioni Dell'Unione Europea L'intervista E il negoziatore Accordi commerciali Solo con la libera Circolazione Di persone Merci E capitali Ora il tempo Il titolo Di apertura Tugliani Paga Esce Di cella Adesso È libero A Dubai Casa di Monte Carlo Il cognato di Fini Rilasciato su cauzione Italia Rischio beffa Gli Emirati Non sono obbligati Ad estradarlo E poi Il tragico schianto Per l'ex ministro Aurelia Fatale Matteo Limore In un incidente A centropagina La Federcalcio Pronta ad aprire Un'inchiesta Sotto accusa Il post contotti Poi rimosso Giacomelli Indagato Andiamo su Libero Il quotidiano Diretto da Vittorio Feltri Apre Con Bastardi islamici Si può dire Perché Il giudice Assolve Libero Per il titolo Sconfitte Le comunità musulmane Che ci denunciarono Perché Si erano sentite offese Noi ce la siamo presa Soltanto Con i terroristi Che avevano Torturato e ucciso Senza pietà 130 persone a Parigi In nome Di Allah A centropagina L'ex ministro Dell'economia Tremonti Tremonti Premier Papalino Meglio il niente Piuttosto che un Gentiloni Bis Andiamo sul giornale E qui Il titolo Principale Riguarda La morte Di Altero Matteoli Ciao Altero Morto In un incidente Stradale Abbiamo visto Già in Precedenza Sulla verità Il fallimento Di Etruria Non bastava Soldi Nero Al padre Della Boschi L'evasione Fiscale Scoperta Dalla guardia Di finanza Ma l'agenzia Delle entrate Lo salva Paduan Scarica L'ex ministro Mai autorizzata A parlare Di banche E oggi Tocca A Visco E poi Anche qui Ritroviamo La sentenza Che abbiamo Già visto Su Libero Definire Bastardi I terroristi Seguaci Degli Islam Non è Reato Assolto Belpietro Per il titolo Del 2015 Sugli attentati Di Parigi 130 Furono I morti Notizia invece Che riguarda Il sisma Finiti i fondi Teremotati fuori Dagli alberghi Entro Capodanno Lettera Della regione Umbria Chi vuole restare Paghi E le casette Non ci sono Sul secolo D'Italia C'è un titolo Con una fotografia Di Matteoli Al dio Altero Naturalmente Il titolo È sulla morte Dell'ex ministro E poi andiamo Su avvenire Qui Apertura diversa Come sempre Avvenire Quotidiano Cattolico Pone grande attenzione Ai temi che riguardano La famiglia E il diritto Di famiglia La surrogata Offende La dignità Della donna Sentenza Della consulta Ha confermato Il divieto La corte costituzionale Ribadisce le disposizioni Della legge 40 Al centro Delle decisioni Si deve però Sempre porre L'interesse Del minore Andiamo a centro pagina Il doppio passaporto Entro il 2018 Governo fischiato Ma l'Austria Mira All'Alto Adice Come vi ho raccontato In precedenza E poi Banche Accusa Di Padoan Di Maio Euro Direi no Queste le dichiarazioni Di Luigi Di Maio Andiamo sul mattino Adesso Il quotidiano Napoletano Il titolo Profughi al lavoro Ecco il piano Il protocollo Pilota in campagna Minniti Moschee Prediche in italiano Gli immigrati Impiegati dai comuni In attività socialmente utili Con fondi statali E dell'Unione Europea Si di 265 Sindaci Andiamo A centro pagina Ritroviamo Il dramma Di Seattle Deraglia Un treno Appena inaugurato Sono sei morti Il convoglio Caduto da un ponte Sulle auto Decine Di feriti gravi Ci sono anche Sei morti Per questo Deragliamento Del treno Amtrak Tra l'altro Su una linea Dell'alta velocità Appena inaugurata E poi ritroviamo Anche il caso Di Banca Etruria Non autorizza i boschi A parlare con le banche Etruria Fondo di Paduan In commissione Di Maio Voterei per abolire l'euro In un referendum Domerenzi Risponde Non sa cosa Dice Andiamo sul secolo XIX Il titolo Di apertura Sulle banche Paduan Non salva boschi L'audizione In commissione parlamentare E oggi Tocca al governatore Visco Le parole Di Paduan Le abbiamo lette In precedenza Nel tesoro Precisa Che Proprio Il ministero È stato a gestire La crisi Delle banche Assieme Al presidente del consiglio Allora Renzi E poi La maxinave record 400 metri E 17.000 container Con l'arrivo Della MSC Istanbul Genoa Batte Il primato Andiamo adesso Sui quotidiani sportivi Nazionali Andiamo a vedere insieme La gazzetta Dello sport Il titolo principale Riguarda I problemi Del Milan Il castigo di Natale Milan Il ritiro Senza cena Come si fa Con i bambini Quando sono monelli Il K.O. di Verone È stato superato Con il K.O. di Verone È stato superato Il segno La società interviene Festa degli auguri Annullate Squadra Milanello Fino a nuovo ordine Per ritrovare Forma e motivazione Previsti Nuovi test Atletici Il commento Di Umberto Zapelloni Il nostro Elettroshock E quello del club E poi l'analisi Dell'ex allenatore Del Milan Arrigo Sacchi Le troppe Le illusioni I troppi Malintesi Andiamo a vedere Di spalla Troviamo Lo scatto Dell'Inter Che accelera Su De Vrai Tocca adesso Al Suning Il difensore In scadenza La Lazio Gli ha fatto Un'ultima offerta Di rinnovo E la concorrenza Estera È forte E poi Gli ottavi Di Coppa Italia Ore 21 Turnover Napoli Contro l'Udinese Rinata Con Oddo Andiamo a vedere Le altre notizie Appello federale La sentenza Il sollievo Di Agnelli Che sorride Pena già scontata Chiusa la curva Caso Biglietti Accolto il ricorso Del presidente Bianconero Pena ridotta Da 12 a meno di 3 mesi Pesanti le multe Quasi 100.000 euro Il procuratore Farà ricorso E poi Muro dell'Atletico Su Vrasalco Spinazzola Subito La Juve ci prova E per Ci riprova E per Cristante Bisognerà Vedere Andiamo avanti Sempre con lo sport Il corriere dello sport Adesso Il titolo principale Sulla Juventus Tocca a lui Ecco qui Il titolo Mandzukic fuori domani Con il Genova E a rischio per la Roma La Juve punta Sudipala Per il decollo Nel taglio alto La crisi del Milan Inferno Milan Tutti in ritiro Linea dura Della società Annullata La cena Di Natale Di spalla Troviamo la Juve Accolto il ricorso Di Agnelli Inibizione finita Per il caso ultra E poi la Roma Invasione giallorossa Sabato sera Allo stadium Già venduti in poche ore I 2100 biglietti Per gli ospiti Su tutto sport Juve felice Anche senza gioia L'inserimento Riuscito dei nuovi Consente ad Allegri Di tenere in panchina Una serie incredibile Di campioni Eppure Di Bala Può recuperare con calma La forma migliore Per tornare Fenomeno E poi Caso biglietti ultra La vittoria di Andrea Con lo sconto Di pena Per Agnelli Di spalla Rinforzi Toro Un brasiliano Per Mijalovic Ecco Sandro L'ex centrocampista Del Tottenham E della Seleção Con passaporto portoghese A gennaio Lascerà L'Altian Spor Gli Aic Out Un mese E poi Fallimento Milan Gattuso Ordina Ritiro Ordina Ritiro Salta La festa Di Natale Caos Tra voci E Turbolense Questo per quanto riguarda anche le prime pagine sportive Termina così la prima parte della nostra rassegna Adesso faremo un piccolo break pubblicitario Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6 Poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna Per approfondire le notizie dalla regione A tra poco Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 Torniamo così alle notizie dalla nostra regione Aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi Sul messaggero troviamo i mali del pianeta bianco Nella pagina Abruzzo Sanità Aslin perdita per 100 milioni Il default è vicino Il presidente della vigilanza Febo Le cifre nella relazione della KPMG Mancano i soldi per le protesi Per l'acquisto delle medicine Rispondono Paolucci e D'Alessandro Accuse strumentali in campagna elettorale Febo Accuse Rappresentanti della regione Non hanno nemmeno partecipato al vertice nazionale sul problema Prima di andare a vedere il servizio Completiamo la lettura della pagina Autostrada dei Parchi Primo ok allo stanziamento di 58 milioni L'investimento previsto nella legge di bilancio Che poi tornerà in Senato Come detto andiamo a vedere il servizio Sulla conferenza stampa di ieri Di Mauro Febo di Forza Italia Di solito quando l'assessore va al tavolo di minoraggio a Roma Ritorna sempre con belle notizie Con titoli roboanti Che poi magari non rispondono alla realtà Questa volta non solo non è andato Ma non ha fatto nessun comunicato E allora abbiamo cominciato a richiedere i documenti Non Mauro Febo Non le opposizioni Ma la KPMG Cioè la società incaricata di accompagnare la regione Abruzzo Come consulente Quindi advisor Sui tavoli ministeriali Ha una relazione che porta il buco della sanità Cioè la perdita proiettata dal terzo trimestre a fine anno A oltre 52 milioni di euro Rispetto ad una perdita programmata E su cui il tavolo di monitoraggio Già aveva cominciato a chiedere chiarimenti e interventi Di soli 23 milioni di euro Ma non è solo questo il problema Il problema è che insieme a questa perdita di oltre 52 milioni di euro C'è uno sforamento dei tetti della spesa programmata Per quanto riguarda la spesa farmaceutica Di oltre 38 milioni Spesa farmaceutica che credo bisogna attenzionare Perché non solo vengono richiesti ai pazienti Ai malati che si portino i medicini da casa Ma questa volta addirittura agli oncologi Vengono rinviati gli interventi di una gravità assoluta A questo va aggiunto Che l'Alz di Chieti negli ultimi tre anni Chiudeva i bilanci in perdita Ma la perdita veniva mitigata Dalla iscrizione in bilancio Di sopravvenienze attive Cioè di somme che l'Alz richiedeva Alla curatera fallimentare Ex Villapini Cosa succede? Succede adesso che il giudice istruttore I suoi tecnici, il CTU Richiedono il pagamento a favore della curatela Di 42 milioni E quindi siamo arrivati E abbiamo superato i famosi 100 milioni Quindi non si danno prestazioni ai cittadini Non si danno servizi ai cittadini Però poi scopriamo Che l'Alz di Pescara il 31 luglio Che cosa fa? O fa una delibera come capofila Delle quattro Alz Per armonizzare i bilanci delle Alz E spende 12 milioni di euro Io credo che su questo C'è da riflettere Come c'è da riflettere Su un altro dato I pagamenti dei fornitori Delle prestazioni Non hanno il rispetto Dalle norme europee Anche su questo Il tavolo praticamente Avrà sicuramente E' scritto qualcosa In una verbale Che comunque oggi Tutto era segretato Andiamo avanti Sul quotidiano Il centro Nella pagina di primo piano Ritroviamo questa notizia Eccolo qui Febbo La sanità A 100 milioni di debiti Il forzista attacca la regione Alla vigilia del consiglio sul bilancio Ma D'Alessandro Gli ribatte Commentando Che sono polemiche Strumentali ed elettorali Invece In primo piano Le poltrone che contano Regione Tempo scaduto Per 5 direttori Da giovedì Stop ai contratti Di Muraglia Zappacosta Di Paolo Valeri E di Rino Al loro posto Altri dirigenti Ad interim E poi Vertice per la bonifica Bussi Oggi lo stop A Edison Cuocere i rifiuti Non basta E poi Tesori D'Abruzzo Teate romane Alba Fucens Finanziamenti Per 5,5 milioni Di euro Proviamo Troviamo Nella Seconda pagina Di primo piano Invece Un approfondimento Sulla storia Di Ortona Protagonista Della fuga Di re Vittorio Emanuele III Aldo Il pescatore Ortonese Che aiutò Il re a scappare Recchini Aveva 16 anni Quando lo chiamarono Nella notte Per una missione Mi mise Una mano Sulla spalla Lo feci sedere Sulle Cassette Del pesce Vuote Questo Racconta Il pescatore Chiaramente Adesso Si sta Diciamo Riscoprendo Questa Chiaramente Una pagina Di storia Importante Del nostro Paese Perché C'è stato Il rientro Di Vittorio Emanuele III In Italia La sua salma Con polemiche Sulla Sepoltura Perché Casa Savoia Chiedeva Una sepoltura All'interno Del Pantheon Dove sono Gli altri Reali Italiani Poi Nel taglio Basso Sempre su Questa notizia Scelta Ingloriosa L'Abruzzo Non dimentica La fondazione Brigata Maielle Carlo Troilo Figlio del Comandante Partigiano Contro Il rientro Della Salma E quindi Queste Insomma Sono le reazioni Anche in Abruzzo Andiamo avanti Adesso L'apertura Della pagina Di Pescara I rimedi Contro L'inquinamento Stop Alle auto Per Natale Coro Di no Di Carlo I commercianti Bocciano La proposta Dell'assessore Di chiudere Il centro Cittadino Misura Inutile Per ridurre Lo smog E dannosa Favorevole Invece La di Consum Nel taglio Alto Troviamo Gli altri Commenti La chiusura Del centro Non ridurrebbe Lo smog E sarebbe Dannoso Per il commercio Dice Franco Danelli Di Confcommercio Gianni Tauci Di Confesercenti Prima di fare Scelte del genere Sarebbe il caso Di variare i piani Del traffico Dei parcheggi E poi Una commerciante Barbara Cazzaniga La chiusura Del centro A ridosso Del Natale Sarebbe Una soluzione Inaccettabile Carmine Salce Della CNA Proposta Inopportuna Tra l'altro Il centro È già in parte Pedonalizzato E poi Alberto Corrarro Di Adconsum Siamo favorevoli Allo stop Delle auto Per ridurre L'inquinamento Queste Le reazioni Adesso Continuiamo Sulle pagine Di Pescara Panico In viale Regina Elena Ubriaco Sul SUV Devasta Le auto In sosta Denunciato Un russo Di 35 anni Ferito Un ragazzo Che stava aspettando La fidanzata In macchina Ora È ricoverato In chirurgia Coda Con sei prefetti Toleranza zero Contro chi parla Al telefonino Mentre guida Nel taglio basso Spacciatori Traditi Dal fiuto Di Chetti Il cane Antidroga Della polizia Scova 2,5 kg Di Maruana Vicino A Colle Cese Sono state arrestate Tra l'altro In queste operazioni Del fine settimana Due persone Sonia Galante E Maurizio Piscione Continuiamo Sul quotidiano Il centro Addio Ad Anna Caffarelli La scrittrice Degli emigrati Era tornata A Pescara Dall'Argentina Con il titolo Di messaggera Di pace Aveva 78 anni Le era stato segnato Il premio Guerriero Di Capestrano E poi Muore in ospedale Dopo una caduta Nella sua Officina Si tratta Di un Settantenne Di Pescara Andiamo Alla festa Al Circus Tribunale E procura Acquistano Gli arredi Destinati A pediatria Consegnato Alla Odlus Adricesta L'assegno Di 21.000 euro Show Di comici E cantanti Videomessaggi Di preziosi Noemi Continuiamo Sempre sulle pagine Di Pescara Del centro Sbagliati i conti Della Tari Da rifare Le nuove tariffe Il centro-destra Denuncia un pasticcio Sulla tassa dei rifiuti Per l'anno prossimo L'imposta sarà Meno cara Del previsto Si pagheranno 400.000 euro In meno Altre notizie Il generale Del 7 In visita I carabinieri Al nucleo Subacqui E al nucleo Elicotteri Poi Neuroscienziato Premiato Dalle CNR Riconoscimento Nazionale Al libro Delle pescarese Antonio Cerasa Sul legame Tra lavoro Passione E cervello E poi Rallenteremo L'iter Della nuova Pescara Ieri c'è stato Un convegno Nella Sala dei marmi Della provincia Di Pescara Il comitato Per il no Alla fusione Si presenta E annuncia Battaglia Troppa fretta Di concludere In questo Comitato Capitanato Da Licio Di Biase Tra l'altro Ex presidente Del consiglio Comunale Di Pescara Proseguiamo Ancora Nella pagina Di Montesilvano Palazzi Vista mare Bufera In giunta L'assessore All'urbanistica Musa Non partecipa Al voto Sulla variante Al PP1 Insorge Il movimento 5 stelle Altre notizie Dall'area metropolitana Banda del buco Alle poste Sfuma il colpo Ladrinazione a Francavilla Nei sotterranei Dello sportello Di Viale Maiella Per gli investigatori Progettavano Una rapina Scendiamo A San Giovanni Tiatino Presepi Mostra concorso Sul tema Del riciclo E poi Francavilla Agliutiamo Gli altri Anche con una carezza 120 bambini Delle scuole Danussi e Michetti Alla festa Della solidarietà Ancora Nella pagina Nel penne Popoli Dell'Alta Val Pescara Vigili del fuoco Pronta La caserma Apertura A giorni Dopo anni di attesa La sede di penne Diventa operativa Le 26 unità Potrebbero entrare in azione Già sotto Le feste Le dichiarazioni di Antonio Baldacchini Finalmente avremo Un presidio per l'emergenza Disponibile giorno e notte Il primo passo Per riportare Una serie di servizi In città Manoppello Schianto In auto Contro un garage Paura per una donna 27enne I carabinieri di Popoli Scusate Stanno ricostruendo Le cause dell'incidente I primi soccorritori Hanno trovato la ragazza Priva di sensi Nella notte Tra sabato E domenica Adesso ci spostiamo Sul messaggero Andiamo a vedere La pagina di Pescara L'apertura Nuova Pescara Debutta Il fronte Del no Il comitato Per la rilettura Del processo Di fusione Dei tre comuni Punta a dilatare I tempi di attuazione Fino al 2022 Di biase Necessari approfondimenti Sul piano urbanistico Storico e finanziario Riprende quota L'ipotesi Dell'area Dell'area metropolitana La presenza Di Maragni E di Lorito Prima i cittadini Di Montesilvano E Spoltore Anticipa Il parere contrario Dei due consigli Comunali Contrarietà Che per la verità E' stata espressa Anche in un incontro Che si è svolto In Regione Capitanato Dal presidente D'Alfonso E poi Gli anni formidabili Della DC In un libro I ricordi Di quieti Andiamo avanti Le altre notizie Sepolti A Fosso Grande Due chili di ascisce La droga Di Natale E poi Russo ubriaco Piomba con il SUV Sulle auto in sosta Un ferito grave In centro A Pescara E ancora La banda del buco In azione A Francavilla Fallisce il maxifurto Al cavo Delle poste Dall'area metropolitana Sotto l'albero Di bussi 180 posti di lavoro Piano industriale E potenzialità produttive Dello stabilimento Filippi Farma Illustrate I cittadini Dall'imprenditore Veneto Investo qui Perché sono innamorato Di questo luogo Dietro l'operazione Da 50 milioni L'intervento Finanziario Di Invitalia Andiamo a vedere Invece Quest'altra notizia Che riguarda Rigopiano Sfilano in procura Gli indagati Della regione Questa mattina Riprendono gli interrogatori Dei 23 indagati Per il disastro Dell'hotel Davanti Ai magistrati Al procuratore Massimiliano Serpi Al sostituto Andrea Papalia Saranno di scena I rappresentanti Della regione Indagati Certo Certo il forfete Medio primavera Per il quale L'avvocato Lamorgia Aveva chiesto Il differimento Dell'interrogatorio Si apre alle 9 Con l'ex sindaco Di Fanitola Antonio De Vico A seguire Sala rivolta Di Sabatino Belmaggio Dirigente responsabile Del rischio ingenti Valanghe E poi Carlo Giovani Dirigente rischi Della protezione civile Alle 12.30 Chiuderà la mattinata Il direttore Pierluigi Caputi Nel pomeriggio È prevista La presenza Di Vittorio Di Biase Andiamo avanti Con la lettura Del messaggero Il babbo natale Della polizia Arriva a bordo Dell'elicottero Questo è L'appuntamento Tradizionale Con il babbo natale Della polizia Il reparto volo Ha ospitato 400 bambini In cura Negli ospedali Che hanno fatto festa Con i figli Degli agenti E poi la visita Del generale Del 7 A Pescara Per quanto riguarda I carabinieri Prima di passare La pagina Anzi no Andiamo a vedere subito La pagina Dell'Aquila Sul messaggero Dunque restiamo Sul giornale Signor Presidente Ci dica Se il liceo Classico È sicuro Questa è l'apertura Di pagina Incontro Tra la preside D'Alfonso Chieste garanzie Sulla sicurezza Per tamponare L'emergenza Dovete farci utilizzare Il musp Delle Micarelli Vertice Sull'unico istituto Rimasto senza sede Dopo il terremoto L'impegno Del governatore Andiamo avanti Con il messaggero Nuova strada Ok da regione comune Si tratta Del tracciato alternativo Alla variante sud Che è stato messo a punto Dagli esperti Del lancio Il progetto Ha il vantaggio Di non consumare Altro suolo E di proporsi Con un impatto minimo Rispetto Al territorio Poi Sottopasso Allagato Colpa Del diluvio Per RFI La quantità di pioggia Caduta Ha provocato L'esondazione Del fiume Raio Stiamo sistemando Così Rete ferroviaria Italiana E poi Ancora Nella pagina Di Avezzano Sulmona Pensavo di morire Via per paura Parla Il marocchino Che ha causato L'incidente stradale In cui è morto l'amico Si trova Ai domiciliari Nessuna fuga Ho cercato di salvarmi E speravo Che Aisham Facesse lo stesso Mi gridavano contro Ecco I soliti Stranieri Il racconto Shock Ero in apnea Con la forza Della disperazione Sono riuscito A rompere Il finestrino Andiamo a vedere Anche la pagina Dell'Aquila Sul quotidiano Il centro Sul Mona La cerimonia Al Caniglia Ieri pomeriggio Il nostro Lungo anno Senza Fabrizia Parla la madre Della giovane morta Nell'attentato a Berlino Consegnate pergamene Ai vertici Delle forze Dell'ordine Nel taglio basso Invece Scienziata aquilana Tra le dieci donne Del 2017 Notizia che abbiamo trovato Anche sulle prime pagine Dei quotidiani nazionali L'astrofisica Branchesi Insegna al CSSI Il riconoscimento Per la ricerca Sulle onde Gravitazionali Restiamo sempre Al quotidiano Il centro Andiamo nella pagina Di Chieti Adesso La mobilitazione Corteo contro il sindaco Di Primio Sabato L'opposizione Scende in strada E chiama Raccolte cittadini Manifestiamo Per fermare I danni Dell'amministrazione Nel taglio basso Condannati Per i furti Ai distributori Lanciano I tre a processo Per l'assalto Al benzinaio E la fuga Patteggiate pene Da 24 A 28 Mesi C'è poi L'università D'annunzio E scontro Sui debiti Del Cus Il buco È di 15 Milioni Di euro Andiamo a vedere Insieme la pagina Di Chieti Sul messaggero Eccola qui Studenti Corteo con il tricolore Per chiedere Scuole più sicure Nutrita La rappresentanza Di Itis Gagliani Artistico Ormai senza sede Da oltre due mesi Si tinne davanti Al portone Della provincia E giovedì Ci sarà l'incontro Col presidente Pupillo Ieri I 300 Hanno dato vita Alla manifestazione Lungo il corso Fra i fumogini E un solo Striscione Vediamo altre notizie Nel taglio basso La città che cambia Lavori in centro storico Firma Palazzo Chigi Per 11 milioni Via le auto Da San Giustino Parcheggi raddoppiati Al terminal bus Sarà invece demolita L'ex Vicentini Questa è la città di Chieti Che cambia Andiamo invece Sulla pagina Di Lancianova Stortona Via verde La grana Dei posti auto Il tracciato Si mangerà Una bella fetta Dei 700 parcheggi Nell'area di risulta Della vecchia stazione A Vasto Marina Il sindaco Menna L'idea è di ricavare Una superficie In compensazione Laddove i lavori Non sono previsti Scendiamo Nel taglio basso Della pagina Salvataggio tribunali Qui si dorme L'accusa Del senatore Fabrizio Di Stefano All'attacco A Sulmona Ed Avezzano Sono più attivi Possiamo andare a vedere insieme L'intervista A Fabrizio Di Stefano Avevo a suo tempo Proposto In legge di bilancio In finanziaria Un emendamento Che andando A toccare Modificare la norma Che prevede Le deroghe Cercava di trovare Una soluzione Che cosa prevede Questa L'attuale deroga Prevede che un comune Può farsi carico Un ente locale Con la regione Può farsi carico Degli oneri Per mantenere La struttura Tribunalizia A patto di caricarsi La struttura stessa Quindi di mettere A disposizione Uno stabile Di curarne La manutenzione Ordinaria E straordinaria Tutti i costi Di gestione E anche I costi del personale Ora è evidente Che i costi del personale Sono troppo nerosi Per un comune Per sosportarli Io avevo fatto L'emendamento Di togliere i costi Del personale Che comunque Il personale Attualmente In carico Ha il ministero Di grazia e giustizia E che Anche qualora Dovessero essere A noi Chiusi Questi tribunali Quel personale Comunque resterebbe In carico Il ministero Purtroppo Purtroppo Non ci si muove Non ci si muove Il 2020 Sarà una data Definitiva È evidente Che per muoversi Occorre che Comuni Che tra l'altro Hanno lo stesso Colore politico Unitamente Alla regione Dello stesso Colore politico Trovino momenti Per confrontarsi Per far sedere Intorno a un tavolo Gli operatori Del settore Quindi gli ordini Forenzi Quindi la magistratura Quindi il personale Amministrativo E provare a trovare Una soluzione Da prospettare Al ministero Però Passate un anno Che dalla proroga E di queste riunioni A me Non risulta Essere fatta nessuna Adesso La pagina di Teramo Sul quotidiano Il centro Dopo il terremoto La ricostruzione Non parte Natale Al buio Per gli sfollati E questa L'apertura di pagina Solo nel comune Di Teramo Ci sono quasi Quattromila persone Senza casa Nel taglio basso Lo sport Campitelli Prova a rilevare Lo stadio Il patron del Teramo Fa un'offerta A Cantagalli Per acquisirne La gestione La risposta No comment Andiamo sul Messaggero E dunque Andiamo a vedere Anche qui La pagina di Teramo Crack Del ex Tercas I correntisti Nessuno ci disse Del rischio Sfilano sul banco Dei testimoni Cognige e pensionati Il Mifid Mai fatto vedere Ci siamo sempre fidati Del personale Un legale Ha recuperato 400 mila euro Flavio Conciatori Il giudice Che sta esaminando La questione Dell'istituto Di credito Andiamo nella pagina Successiva Quella di Giulianova Roseto E della Val Vibrata Natale Salta anche il concerto Dei ragazzi Non si è potuto Svolgere All'auditorium Appena inaugurato Grande delusione Da parte degli studenti E rabbia dei genitori Il sindaco Di Giulianova Interviene in serata E propone la data Di sabato E afferma Qui c'è qualcuno Che si diverte A creare problemi Poi Negozio Svaliggiato Tra sabato E domenica Proprio nel giorno Dell'inaugurazione Ladra in azione Alla Vurt Bottino Di circa 20 mila euro Nel taglio basso Operatori turistici Difidano la regione Sui lavori Dei moletti Anti erosione Ad albadriati Che poi Martinsicuri Inquinamento setterraneo Preoccupati I residenti Andiamo a vedere Anche la città A Teramo Rivoluzione in arrivo Tra i dirigenti Comunali Nelle prossime settimane Termineranno Gli incarichi Della segretaria Scaramazza E dei dirigenti Di Gesualdo E Bernardi Continuiamo Con la città Brucchi e Gatti Si ignorano Alla cena forzista Intanto a Teramo Successione Per il brindisi Di Teramo Soprattutto Con Alfonso Dodo Di Sabatino Martina Andiamo Andiamo ancora avanti Con la Tercas Ho perso i soldi Della vecchiaia Truffa Dei pronti Controtermine In aula I clienti Che hanno investito E perso risparmi Di una vita In provincia A Torricella Il villaggio Sae Più grande D'Abruzzo Giovedì mattina Il taglio del nastro Delle 48 casette Realizzate Per accogliere Gli sfollati Del terremoto Nel taglio basso L'appello Conferma L'assoluzione Del capocantoniere Dell'ANAS La morte Di Matteo Ceci Altri tre Sono a processo A Teramo Con rito ordinario Per l'incidente Nella galleria Di Piaganini Andiamo Avanti Altra notizia Di cronaca Ghiaccio Il bus Scivola Fuoristrada Civitella L'autista Perde il controllo Lungo la discesa Di Sant'Andrea E poi Il cartellone Degli eventi Cade a pezzi Siamo a Giulianova Non solo i mercatini Saltano anche i concerti E le manifestazioni In piazza Nella pagina Di Roseto Pineto A Tre Silvi Ferretti Parla già Da candidato Sindaco A tre al voto Appello a Marcone Per un centrodestra Unito Alle elezioni E sempre Per la politica Di Buonaventura Ufficializza La sua ricandidatura Per quanto riguarda Il comune Di Notaresco Torniamo sul quotidiano Il centro E apriamo la pagina Dello sport Chiaramente A tenere banco In queste ore E il Pescara E la querelle Tutta interna Al Delfino Sebastiani Zeman Vanno avanti Da separati In casa Il presidente Diserta L'incontro Con il Boemo Ma non Lo esonera In vista Della prossima gara Cosmi Conferma L'Ascoli In blocco Nel 3-5-1-1 Del tecnico Dei Marcheggiani In attacco Lores Varela A supporto Di Perez Andiamo a vedere Anche il titolo Dell'Abruzzo Sport Sul messaggero Pescara Zeman Fino ad Ascoli Divorzio Rinviato Con il tecnico Aspettando la gara Di giovedì sera Nessun faccia a faccia Con Sebastiani Mission affidata A Leone E Pavone Intanto La burrasca Prenatalizia Ha funzionato Almeno Sul campo Perché La squadra È tornata Alla vittoria Nella gara Interna Contro Il Novara Intanto Noi andiamo a vedere Cosa è accaduto Nella giornata Di ieri In casa Del Pescara Nel servizio Di Andrea Costantini Zdenek Zeman Resta sulla panchina Del Pescara A meno di colpi Di scena E questo il verdetto Delle ultime 24 ore Il tecnico Boemo Questo pomeriggio Ha diretto Il primo degli allenamenti Che condurranno Il Pescara Al penultimo match Dell'anno Giovedì prossimo Ad Ascoli Il dopo partita Di ieri Subito dopo La vittoria Con il Novara Faceva presagire Un esito diverso Da una parte Il presidente Sebastiani Che tuonava Contro la conferenza Stampa Pre gara di Zeman Usando espressioni Molto forti Dall'altro L'allenatore Che sempre ieri Non ha fatto un passo indietro Aggiungendo Io non dico bugie Alla domanda Zeman sarà Sulla panchina Del Pescara Ad Ascoli Sebastiani Aveva risposto Non so Devo prima Incontrare il mister E l'incontro C'è stato Proprio ieri sera A cena Nei dettagli Non è possibile Sapere Cosa si sono detti I due Quel che è certo È che oggi Zeman Ha diretto L'allenamento Il boemo È arrivato All'appoggio Intorno alle 14.10 Era già presente Il direttore sportivo Luca Leone Di seguito Sono arrivati Alla spicciolata Anche i calciatori Poi è stata la volta Dell'altro direttore sportivo Peppino Pavone Che è entrato Nel tunnel Degli spogliatoi Dell'impianto del Poggio Alle ore 14.35 Il summit Tra direttori Giocatori Zeman E il suo staff È durato circa mezz'ora Poco dopo le ore 15 Luca Leone E Peppino Pavone Hanno fatto capolino Sulle gradinate del Poggio Nessuna dichiarazione ufficiale Da parte loro Solo l'indicazione Strappata a mezza bocca Che Zeman Avrebbe diretto L'allenamento Cercando poi Di ridimensionare Il clamore Del botta e risposta Mediatico Di ieri sera Insomma Sembra ipotizzabile Che nell'incontro Di ieri sera Tra Zeman e Sebastiani Ci sia stato un chiarimento Se definitivo O soltanto Una tregua In vista dell'imminente Impegno di Ascoli Lo si capirà Prossimamente Leone e Pavone Che sono arrivati Separatamente Sono andati via insieme Alle 15.50 La fase di riscaldamento Preallenamento È stata coordinata Dal preparatore Ferola Alle 15.20 E' sbucato anche Zeman Applaudito Da un drappello Di tifosi Che li hanno urlato Dai mister Non mollare Il boemo Poi come detto Ha diretto L'allenamento Separando il gruppo Defatigante Per chi ha giocato Col Novara Seduta piena Per gli altri Andiamo avanti Con lo sport Apriamo la pagina Della città In primo piano Chiaramente Il Teramo Dunque scendiamo Di categoria In serie C Teramo serve Il mercato Ma non solo Repetto Dovrà lavorare Sulle uscite Per poi Poter andare Alla ricerca Di una punta Da mettere a disposizione Di mister Asta Venerdì sera Intanto Arriva Il mestre Andiamo nel taglio basso Per l'eccellenza Inizia male Il girone di ritorno Per il Real Giulianova Sconfitta Contro il paterno Al secondo posto C'è il sorprendente Martin Sicuro Torniamo invece Alla serie C Al Teramo Graziano avverte Il Teramo Sul quotidiano Il centro Serve Una gara intelligente I biancorossi Guardano Alla sfida Di venerdì Col mestre Per la riscossa Asta Ritrova Amadio Il portiere Calora Riposo Per un trama Al dito Della mano Proseguiamo Sul quotidiano Il centro Il basket Di A2 Carlino Un inno al gruppo Così Roseto Può risalire L'ultimo arrivato Decisivo Nella seconda Vittoria stagionale Andiamo avanti Migliorando Nello stare in campo E parlandoci Di più Per il calcio a 5 Stasera Tre bruzzesi in campo Per la coppa Di divisione E poi l'ultimo appuntamento Dell'anno Martedì 26 dicembre Ciclocross Sul circuito Del lago Teaterno Andiamo sul messaggero Così completiamo anche la lettura Delle pagine dello sport Sul messaggero L'Aquila è un leone Ma la società L'Aquila Siamo alla serie D Dopo la sosta Si corre il rischio Di disperdere Un patrimonio Tecnico L'altra pagina Dove troviamo Il Teramo Teramo Per la salvezza Serviranno i rinforzi Venerdì sera Al Bonolis Arriva il Mestre Serve il successo Per la tranquillità Poi ci sarà La lunga sosta Invernale E a quel punto La squadra Sarà cambiata Per quanto riguarda la serie D Pineto In serie utile Abbonato al segno X Domenica si è sentita la mancanza Del bomber Gragnoli E poi Senza Cerone Pellecchio Un Avezzano condizionato Ammatelica Serviva la partita perfetta Ma il bilancio Comunque È positivo Nonostante la sconfitta Nero Stellati Il successo Entrato nella storia Mister Di Marzio È dedicato Ai tifosi E poi La vastese Giro di Boa Trionfale E obiettivo Ambizioso Per quanto riguarda La serie D Ancora serie D In questo trafiletto San Nicolò Lucarelli Montani O Meco Monaco Dopo la brutta sconfitta Contro il San Marino Costata la panchina A Luca Campanile La Virtus San Nicolò Si è presa ancora Qualche ora di tempo Per scegliere Il nuovo allenatore Ed è tutto Per quanto riguarda La nostra rassegna stampa Io vi ringrazio Per essere stati con noi Anche questa mattina Vi do appuntamento A domani Alle ore 8 Per quanto riguarda La lettura Dei giornali Mentre oggi L'informazione Delle TG6 Torna alle 14 Alle 19 E alle 23 Grazie ancora E buon proseguimento Di giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti